Alle prime ore dell'alba Michelangelo Tripo, di Francesco Candiloro e Rocco Versace sono stati fermati perché ritenuti gli organizzatori e gli esecutori materiali dell'omicidio di Marcello Bruzzese, ucciso il 25 dicembre 2018 in una località protetta a Pesaro, città nella quale viveva con la nuova identità insieme alla famiglia. Bruzzese, che venne crivellato con 20 colpi di pistola calibro 9 mentre parcheggiava l'auto nel garage, era il fratello di Girolamo, pentito di indrangheta e passato dalla parte dello Stato. I presunti assassini hanno fatto pagare a lui con la vita il prezzo della collaborazione del fratello con i magistrati, dunque un omicidio di vendetta per rimarcare la capacità di intimidazione della cosca Crea e scoraggiare ulteriori tradimenti. L'altro fermo riguarda Vincenzo Larosa, indiziato di associazione mafiosa. Oggi quattro sono stati arrestati e portati in carcere in diverse città d'Italia. Le indagini condotte da Rosso sotto la direzione delle procure distrettuali di Ancone e Reggio Calabria sono durate quasi tre anni. Abbiamo dato una risposta attesa lunga, ha dichiarato Luciano Ricciardi, comandante della compagnia Carabinieri di Pesaro Urbino, che ha collaborato nella fase esecutiva. I sicari, ha precisato, avevano un'alta capacità di mimetizzarsi con l'ambiente, erano dei professionisti che avevano studiato attentamente il momento giusto per agire. Infatti avevano eseguito minuziosi e ripetuti sopralluoghi per capire le abitudini della vittima, adottando documenti falsi e una serie di accorgimenti utili per impedire la propria identificazione. Inoltre monitoravano i fratelli di Marcello, residenti in altre località protette, e avevano tentato di contattarli sul web attraverso falsi account. Ha parlato di un'indagine straordinaria. Indagine straordinaria per metodo, per la tecnologia impiegata, per la ricostruzione storica del fatto, per aver constatato che anche dei soggetti che commettono un crimine così importante vengono fuori da insospettabili, incensurati. Uno a Brescia, di origine sempre calabrese, e altri in Reggio Calabria, in Calabria, in sostanza a Palmi. L'operazione è stata portata a termine proprio nel giorno in cui il comandante, dopo quattro anni, lascia il vertice della compagnia. Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina, durante una cerimonia privata, alla presenza del comandante della legione Carabinieri Marche, Fabiano Salticchioli. A Ricciardi subentra il tenente colonnello Gianluigi Cirtoli, di Forlice Sena. Sicuramente il mio pensiero va ai cittadini, ai quali noi Carabinieri abbiamo dato il servizio, il servizio alle comunità. Ricordavo prima la pandemia, che è stato un momento fondamentale per noi, per rimarcare quello che è cos'è la prossimità per noi, la vicinanza ai cittadini. Cercando di stargli vicini, aiutandoli bisogno. Mi ricordo gli anziani che non potevano andare in farmacia e le nostre pattuglie provvedevano a prendere i farmaci e consegnarli a questi anziani e così via. Oggi a conclusione, le attività professionali a Pesano. Abbiamo raggiunto questo risultato grazie alla direzione della Procura, dei colleghi del ROS, che sono in capofila nell'indagine investigativa. Noi abbiamo dato il nostro supporto, ovviamente l'omicidio è avvenuto in questo territorio. La parte del reparto operativo ha collaborato in piena sinergia con il nostro raggruppamento operativo speciale.